Ciao a tutti amici fotografi, bentornati sul mio canale. Se siete qui in cerca di un metodo per migliorare le vostre fotografie siete venuti nel posto giusto. Nel corso di questo video andrò a esaminare le fotografie che mi avete mandato voi da casa e andrò a darvi quelli che sono i miei consigli per andare a migliorarle. Partecipare è semplicissimo, mi scrivete un messaggio privato su Instagram con un link che non scade, quindi no way transfer, un altro tipo di piattaforma, Drive, Dropbox, Amazon Photos, Google, quello che volete, basta che il link sia ancora valido fra un mese quando andrò a cliccarlo perché siccome siete in tanti non lo guardo immediatamente, lo guardo dopo un bel po' di tempo. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale, io sono Cesare e mi occupo di fotografie per mestiere. In questi video vado a esaminare i vostri portfolio, suppongo che chi mi manda le fotografie da esaminare non sia un professionista quindi probabilmente io avrò dei consigli da darvi che ovviamente lasciano il tempo che trovano perché non sono né un giudice di X Factor né in fin dei conti il vostro committente. L'importante è che le foto piacciono a voi in fin dei conti però se c'è qualcosa che a livello tecnico può essere migliorato io sono qui per segnalarvelo. Andiamo subito a incominciare, abbiamo quest'immagine mi è stata mandata da un utente che mi ha mandato una singola foto, almeno mi sembra di capire così perché io clicco il link che mi è stato mandato e contiene una singola immagine per cui andremo a esaminare questa singola immagine. Io qui quello che vedo è i colori sono molto gradevoli, abbiamo queste tonalità calde, una foto secondo me notturna scattata da fuori per dentro, secondo me è una foto rubata, è possibile che sia una foto rubata e abbiamo, a me questa sembra un'ambientazione orientale, mi sembra di capire che questa è una donna vietnamita, sto tirando a indovinare, sono pieno di orientalismo dai film statunitensi che ho visto nel corso della mia vita quindi io tiro a indovinare dico che a me sembra una cosa vietnamita però potrei anche sbagliarmi. Globalmente la foto non è male, ci sono un paio di cose su cui si poteva lavorare meglio secondo me, innanzitutto si poteva farla dritta e io so che non sempre è possibile farla dritta ma dove non è possibile io la raddrizzerei in post produzione piuttosto che farla uscire così perché vedete che è storta da una parte, io l'avrei sicuramente raddrizzata. Per il resto io sono convinto che ci sia della lavorazione qua perché mi sembra di vedere un qualcosa di non naturalissimo nel rapporto che c'è tra le ombre e le luci, secondo me c'è stata della post produzione anche con un recupero perché inevitabile, secondo me questa foto è stata scattata di notte a mano libera quindi era un contesto non particolarmente premiante, si poteva fare meglio sicuramente sì, con un treppiede sarebbe venuta meglio, forse anche con un bracketing visto che la persona pare che fosse statica, rimaneva ferma lì col telefono in mano, insomma si potevano fare molte cose in più però indubbiamente trovandosi a passare di lì con la macchina in mano, senza treppiede, senza niente, tira fuori punta e scatta, probabilmente questo è il meglio che si poteva fare. È una foto da primo premio? Secondo me no, è una foto che ci può stare, ha anche un che di street, mi racconta anche qualcosina, riesco a intravedere uno spaccato della vita di questa persona, quindi ha un suo valore se vogliamo narrativo, a livello tecnico, mi rendo conto che non si poteva fare molto di più però a livello tecnico non è eccezionale ecco perché appunto ci sono delle cose che si potevano fare meglio e anche se non si poteva farle io mi ritrovo a vedere questa foto e non è la miglior foto che ho esaminato in questi format ecco. Ma non è neanche la peggiore perché comunque i colori sono gradevoli e comunque c'è del racconto che è una cosa che invece mancava a tante altre foto che erano esposte e composte magari anche meglio. Ma passiamo al secondo portfolio che esaminiamo quest'oggi perché ce n'è due questa volta visto che uno era composta da una singola immagine e andiamo a vedere subito la prima foto come possiamo vedere è una foto verticale con un ponte e dell'acqua effetto seta. Io posso apprezzare questo tipo di immagine perché sono relativamente sicuro che qui sia stato usato un filtro nd perché questa sembrerebbe una foto di urna e per fare l'effetto seta di giorno ci vogliono dei filtri nd quindi apprezzo il gesto tecnico. La foto è composta bene io forse avrei tenuto in frame tutto quel masso che vediamo nella parte bassa perché secondo me ci portava un po più dentro nell'immagine però globalmente è composta bene esposta bene funziona. Andiamo avanti ecco questa secondo me non funziona cioè mi rendo conto che siamo lì sul ponte questa è la veduta del fiume col paese magari è un posto dove vado anch'io in vacanza questo è posti di montagna così ne frequento tanti questo non mi è familiare forse non ci sono mai stato però in realtà potrei esserci stato e non riconoscerlo il punto è quando passiamo su un ponte di questo tipo io capisco che siamo lì e facciamo la foto perché è l'unica angolazione possibile però potrebbe essere una foto che possiamo anche evitare di fare perché è una foto che veramente non aggiunge nulla è una foto che chiunque passi su quel ponte è una cosa che vediamo tutti ogni singolo giorno quindi racconta pochissimo perché non è né spettacolare né innovativa né creativa cioè stiamo passando sul ponte ci giriamo e scattiamo io questa la eviterei nella maniera più assoluta perché cioè chiunque passi di lì dice la faccio anch'io e secondo me non è questa l'idea che vogliamo dare andiamo avanti questo è già meglio qui abbiamo una veduta di una cascata che non conosco no no non sono le cascate del toce queste no quelle sono più grandi secondo me insomma non lo so è una cascata vista da sotto l'idea in generale mi piace l'esposizione mi sembra perfetta perché abbiamo un buon bilanciamento tra luci e ombre il cielo è bello azzurro tra l'altro sembrerebbe essere mattina non mi dispiace globalmente indubbiamente io avrei provato ad avvicinarmi di più alla cascata oppure a prenderla viceversa a prenderla da più lontano con un teleobiettivo per avere un angolazione un po diversa perché per quanto il soggetto mi sembri molto bello non so questa angolazione quanto sia vantaggiosa nel raffigurare un soggetto di questo tipo io me la sarei vista sicuramente da più vicino se dovevamo ottenere questa lunghezza focale oppure da più lontano con una lunghezza focale maggiore per per prenderla frontalmente se fosse stato possibile ma siccome non so che cascata è possibile che questa fosse l'angolazione migliore che si riusciva a ottenere è possibile non lo escludo andiamo avanti e vedete vedete sulla sinistra che c'è un albero che è storto in questo caso quell'albero storto ma non crea nessunissimo problema a differenza che nelle fotografie di interni perché l'architettura la dobbiamo raddrizzare ma un albero è naturalissimo che non sia dritto quindi in questo caso va benissimo così mi sembra esposta piuttosto bene qui cosa si poteva fare di meglio la foto va bene ci sta tantissimo quello che si poteva fare sicuramente di più e su una foto così io l'avrei fatto era una posa lunga se noi qui facevamo una posa lunga per avere effetto seta sull'acqua e effetto mosso nelle nuvole questa veniva una fucilata pazzesca si poteva fare anche un bracketing vogliamo fare proprio i fenomeni allora da fenomeni vi dico che cosa avrei fatto bracketing per avere un buon bilanciamento tra le luci e le ombre sulla terra dopodiché un'esposizione a parte soltanto per l'acqua 4 minuti di posa per l'acqua e un'altra esposizione a parte solo per il cielo 5 minuti di posa una cosa del genere ovviamente alternando con dei buoni filtri n di o con un n di variabile a voler fare i fenomeni io avrei fatto una cosa del genere su questa veniva con un altro effetto andiamo avanti nessun effetto necessario su questa invece perché qui le nuvole hanno già fatto tutto quello che potevano fare queste rocce mi fanno pensare alle dolomiti ma potrei sbagliarmi magari ne parliamo poi nei commenti non male la veduta sicuramente non è male una cosa che non mi fa impazzire è tutta quell'area vuota che abbiamo subito davanti a noi cioè noi abbiamo queste costruzioni e dietro la montagna secondo me il soggetto è tutto lì questa si poteva rifilare quadrata o forse addirittura si poteva fare orizzontale perché secondo me la zona di interesse comincia dove iniziano le abitazioni tutta quella quella terra che abbiamo lì sotto io trovo che non aggiunga niente quindi io l'avrei tagliata fuori o in composizione o avvicinandomi o rifilando la foto in posto comunque l'avrei tolta tutta quella parte andiamo avanti qui abbiamo un fiore in macro allora la foto va bene e chiedo all'autore se ci dà delle lucidazioni poi nei commenti ma io credo che sia stato usato un flash qui perché vedo un'ombra molto netta la foto in generale va bene però c'è un difettino che secondo me un po la fa perdere ovvero i pistilli sono a fuoco i pistilli sopra ma non sono a fuoco i pistilli sotto nella parte inferiore del nostro fiore e questo è un peccato se si fosse riuscito a tenerli a fuoco entrambi chiudendo un po il diaframma sarebbe stato meglio perché avere comunque qualcosa in primissimo piano proprio nel mezzo che dovrebbe spiccare invece risulta un pochino sfocato è un peccato su una foto di questo tipo è un peccato ci sono a fuoco tutti quelli sopra quelli sotto invece sono sfocati a me casca proprio l'occhio lì per il resto era una foto che andava benissimo andiamo avanti e o questa l'ho avuta anch'io quando ero ragazzino la classica tartaruga con le orecchie rosse questa qui si sta godendo la vita come non mai guardate che influencer è lì che prende il sole la foto ci sta è una foto che non può avere velleità da national geographic ovviamente perché non è nulla di particolare sono cose che vediamo tranquillamente nei parchi in tutta italia bestiole come queste però ci sta perché è composta secondo me dal basso quindi ci si è abbassati per farla a livello della bestiola suppongo con un teleobiettivo vedo dietro che è tutto bello sfocato il framing va benissimo secondo me ci sta anche qui però questo è un frame strano perché è un formato che non riesco a capire ma non mi sembra un quadrato puro secondo me è una foto rifilata con con una razio a caso e questa è una cosa che io non amo particolarmente perché sono molto legato ai formati classici io questa probabilmente l'avrei fatta orizzontale l'avrei fatto orizzontale perché tutto quel tronco sotto non mi dà assolutamente nulla e la parte sopra sfocata si va bene però io l'avrei fatta orizzontale togliendo un po di tronco secondo me era risultava più più efficace andiamo avanti questa ragazzi non è male però sapete che io in ogni portfolio devo indicarvene almeno un paio che io avrei tolto e io questa probabilmente la toglierei perché sì ok eravamo lì e c'era un campanile particolare l'abbiamo fotografato però il nostro contributo al racconto non può limitarsi a questo secondo me cioè passavo di lì pum messa in tasca secondo me no perché se guardiamo tutto il resto abbiamo un cielo che non dice granché abbiamo ci sono anche diversi piani di lettura che ci può anche stare però abbiamo l'albero il ponte con su delle macchine che non sono tanto belle da vedere poi dietro delle case che non sono tanto belle da vedere poi questo campanile particolare sparato al centro e io forse l'avrei messo da una parte e poi dietro abbiamo una montagna con degli alberi anche questa non particolarmente bella da vedere questa è la tipica foto che io mi trovo davanti una scena così e dico ok sono qui adesso faccio la passeggiata allo struscio in paese mi faccio la mangiata la polenta me la godo io ma è inutile che io la faccia questa foto è inutile perché quando me la riguarderò a casa a me non dirà niente men che meno alla zia ernesta se gliela farò vedere quindi questa ci sta e gli ingredienti magari ci sono anche magari c'è anche del ragionamento dietro però io trovo che trasmetta poco tenete anche conto io mi aspetto sempre di più da voi quindi mi aspetto anche che facciate delle scelte sia per quanto riguarda composizione esposizione sia per quanto riguarda la scelta di fare o meno la foto in quel determinato momento da quella determinata angolazione da questa angolazione in quel momento io questa non l'avrei fatta non l'avrei proprio fatta perché sapevo già come veniva lo vedo viene così non mi piace quando arrivo a casa non mi soddisfa non la faccio proprio magari la sera con le luci accese poteva avere un'altra resa io avrei provato a rifarla la sera questa perché così tutto molto uniforme faccio fatica anche a estrapolare un soggetto chiaro cioè il soggetto è il ponte o è il campano è ovvio che il campanile però non è così scontato quindi o questa la toglierei la toglierei dal porto andiamo avanti di nuovo un semi macro con sicuramente con qualcosa di più lungo di prima e anche qua non è male ragazzi però la farfalla non è tutta perfettamente a fuoco questa è una cosa che succede se siamo facciamo macro a mano libera o comunque in una situazione del genere dove magari il nostro fiore si muove perché agitato dal vento e quindi mi rendo conto che non è facile in quel caso io cercherei di chiudere il diaframma il più possibile anche a costo di usare il flash che magari è stato usato ma avrei chiuso di più perché avere la farfalla che è parte a fuoco e parte no è un peccato il mio occhio se la perde per il resto poteva essere una foto molto buona questa invece è una foto buona c'è una cosa qui c'è da dire una canzi ci sono da dire due cose la prima cosa quando noi fotografiamo animali tendenzialmente vogliamo lasciargli aria nella direzione in cui guardano quindi se io sto guardando di qua non taglio la foto qui sto guardando di qua metto qui il mio soggetto in modo che abbia spazio per guardare all'interno del nostro frame lasciandoci capire che c'è spazio questo ha un recinto davanti quindi sicuramente è una bestiola in cattività quindi magari di spazio non ne aveva e quindi forse il fatto di averlo fatto girare da quella parte può anche stare a indicare che non ha spazio e che è in una situazione di costrizione ci può stare vi dico queste cose così siete in grado di fare le vostre considerazioni bello il gesto tecnico di spocare l'inferiata in modo che si vede la bestiola e il recinto quasi non si vede quasi perché comunque c'è lì io forse questa l'avrei rifilata quadrata perché così orizzontale ha tantissimo spazio sul lato destro spazio che secondo me non aggiunge assolutamente nulla perché il recinto lo vediamo anche addosso alla bestiola e sopra il garese quindi non c'è nessun bisogno di tutta quell'area vuota io questa l'avrei rifilata o quadrata o addirittura verticale prendendo soltanto il muso della bestiola andiamo avanti ecco questa attenzione abbiamo la mia preferita per me la vincitrice di finora la vincitrice di oggi è questa bellissimo scoiattolino che si sta mangiando la sua non capisco cos'è però sta mangiando qualcosa di gran gusto e ha una ragnatela non capisco se ha beccato una ragnatela camminando e se l'è trascinata dietro oppure se c'è una ragnatela che gli passa proprio a un palmo dalla faccia molto carino e l'unica cosa che non mi piace è quella macchia chiara proprio dietro la sua coda che è un buco nelle fronde e non ci si poteva fare niente io se vi devo trovare un difetto per me è quello non mi piace perché mi porta l'attenzione su quella macchia invece che sullo scoiattolo io forse la toglierei in post produzione quella macchia lì però la foto va bene perché comunque fatta così va bene ci sta forse si poteva stringere un po di più sullo scoiattolo si poteva o zoomare un po di più o croppare un pochino in post magari è già stato fatto eh faccio solo delle considerazioni così al volo che mi vengono spontanee andiamo avanti questa mi piace sì 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 allora quella di prima dello scoiattolino forse la mia preferita perché mi piacciono gli occhiettini della bestiola però questa tra a livello sia tecnico sia compositivo probabilmente è la mia preferita perché qui abbiamo un effetto seta con una difficoltà immane che non è facile da vedere ma io le vedo ste cose qui abbiamo un fuori che è illuminato lo vedete in basso dove arriva tanta luce e abbiamo un dentro che invece è buio di luce ne arriva di meno deve essere tosta tirare fuori un'esposizione bilanciata da una situazione con un contrasto come questo in più abbiamo anche la difficoltà di aver messo dei filtri quasi certamente e questa sarà una posa da boh a giudicare dall'acqua direi un minuto sarà una posa da un minuto qualcosa del genere ne parliamo poi magari nei commenti però a livello tecnico ecco questa a livello tecnico mi piace parecchio e questa ragazzi era l'ultima foto del nostro portfolio allora che dire si tratta di un portfolio di natura montano sostanzialmente queste cose di solito a me piacciono molto come detto la maggior parte delle foto sono buone ci sono quelle due lì la veduta dal ponte e il campanile che io veramente le toglierei le toglierei perché non rendono giustizia al resto del portfolio cioè qui abbiamo capacità tecnica capacità compositiva quelle due lì sembrano fatte da un'altra persona o fatte con pigrizia e ci sta io sono molto pigro anch'io faccio le cose con pigrizia a volte ma quando mi capita poi non le mostro cioè le elimino le faccio sparire butto via e qualcuno di voi potrebbe dire sono capaci tutti così devi mostrare anche gli errori dipende dipende dal tipo di rapporto che hai con la fotografia e con chi la fruisce personalmente io a un cliente non mando le foto di cui non sono contento le foto che reputo di aver sbagliato o le foto dove semplicemente non ero in palla e potevo fare meglio qualcosa se ho una foto migliore di quella roba lì non gli mando la foto venuta meno bene gli mando solo quella venuta bene in quest'ottica e torno a ripetervelo secondo me ci sta che mi mandiate anche le foto che non vi convincono così le commentiamo insieme e magari non convincevano neanche voi così ve lo confermo però in un'ottica di miglioramento se voi fate questo lavoro preventivamente a casa ovvero le guardate dite ok queste due non mi convincono le tiro via io le butto proprio poi mi mandate una selezione dove ci saranno meno foto che io avrei eliminato e quindi andrò a trovarvi degli altri difetti se li troverò ma magari arriverà un momento che vi dirò raga siete tutti bravissimi non c'è niente non c'è nessuna foto da buttare sono tutte promosse l'obiettivo è anche arrivare a quello infatti tenete conto che chi ha partecipato può anche rimandarmeli nuovamente si può anche fare un secondo episodio in cui riguardiamo altre foto per vedere se ci sono stati dei miglioramenti proprio parlando di miglioramenti io spero veramente che questi contenuti continuino a darvi delle fonti di ispirazione per progredire nel vostro viaggio fotografico io cerco di non dilungarmi troppo perché questi contenuti sono sempre lunghissimi mi rimane soltanto da dirvi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto lasciate un like a questo video non solo per me ma anche per i fotografi che hanno partecipato che meritano un applauso da tutti quanti noi per il coraggio e per la dedizione che hanno messo in questo format io vi ringrazio come sempre di aver passato un po del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video